Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Sono Chef Miller Ramos, in questo video vi farò vedere un roll automatic con tempura di petto di pollo, insalata di iceberg di carote, mandorle, terriachi e maionese. Cominciamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!